Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo al cantiere Rossini a Pesaro per una giornata importantissima. È una giornata intitolata Visibilia, volontariato e cultura. Una manifestazione ideata dal CSV Marche e dalla delegazione del CSV provinciale per fare una sorta di call, per chiamare le associazioni di volontariato e verificare con loro la disponibilità di progetti in vista di un coinvolgimento in Pesaro 2024. Direi che è un'occasione imperdibile per tutto il mondo del volontariato, del terzo settore in generale. Appena abbiamo saputo di questa possibilità, del fatto che Pesaro si era conquistata a giusto titolo la possibilità di fare la capitale italiana della cultura, abbiamo pensato subito a come coinvolgere tutto il nostro mondo. Questa assemblea è il modo con cui noi lo facciamo. Scriviamo insieme una pagina bianca, coinvolgiamo tutti, parliamo di cosa potremmo fare e da qui poi capiremo come si sviluppa il progetto sulla base di quello che insieme decideremo. Si parte oggi e non si finisce il 31 dicembre 2024? No, speriamo proprio di no. Noi cominciamo un percorso che non sappiamo dove ci porta, che governeremo, speriamo, nella maniera migliore e poi tutto quello che viene costruito, credo, nel 2024 in tutta la città di Pesaro, in tutta la provincia di Pesaro sarà un patrimonio che poi, come dice il sindaco Ricci, andrà ad arricchire quella che è la nostra comunità. Il terzo settore è una grande opportunità, un braccio operativo del nostro sistema paese, del nostro sistema comunità e nel 2024 ci sarà una nuova forma di volontariato che proporremo, che abbiamo proposto, che è quella del volontariato culturale. Un po' diversa, ma un'altra grande opportunità per coloro che vogliono vivere questa grande occasione della Capitale Italiana della Cultura in maniera attiva da protagonisti e non da spettatori. Quindi collegatevi al sito pesaro2024.it e date la vostra disponibilità. Nelle prossime settimane inizieremo a convocarvi, a chiedervi come costruire questo percorso in occasione della Capitale Italiana della Cultura. Oggi sono giornate, queste sono giornate anche molto difficili, ma caratterizzate anche qui dal grande senso di umanità di questa comunità. Abbiamo fatto una chiamata a tutti coloro che volevano dare una mano, dare disponibilità per dare una mano alle persone che avevano bisogno per l'alluvione. Abbiamo ricevuto ad oggi più di 230 richieste di disponibilità per andare a spalare fango e aiutare le persone in difficoltà. Questo ci rende molto orgogliosi, ci commuove, non ci aspettavamo tutta questa adesione. ciò rappresentare che la cultura del volontariato sociale e tutto quello che fa il CSV e tutti gli enti, le associazioni, i soggetti che ruotano per e con il CSV stanno facendo un ottimo lavoro.